Il PNRR porterà dei soldi in Sicilia, prima valutazione. Speriamo di riuscire a prenderli, perché credo che qualche problema negli ultimi tempi l'abbiamo avuto. E quindi io mi auguro che chiunque vinga sia attrezzato e se non lo è si attrezzi per avere la possibilità di prendere i soldi che non vengono assegnati o regalati, ma bisogna andarci in gondor, bisogna andarsi a prendere e che abbia capacità di spesa. È un'occasione che non possiamo perdere. Avere perso già dei soldi per il riadeguamento delle reti idriche in agricoltura e delle dighe è già una cosa complicata da digerire perché l'agricoltura ha bisogno di queste strutture, l'abbiamo perso. Se perderemo pure gli altri fondi potrebbe essere un'ulteriore occasione drammaticamente persa per la Sicilia. Quindi speriamo che chi sceglieremo sia attrezzato per fare questo lavoro.